In questo video parliamo di 1000 metri, parliamo di un elemento di resistenza lattacida che ti consiglio di fare se vuoi preparare bene i 1000 metri. L'elemento è il 3x1000 con recupero di 5 minuti. Questi 1000 metri vanno corsi all'85% del tuo tempo sui 1000 metri, del tuo tempo in gara sui 1000 metri. Quindi se il tuo tempo in gara sui 1000 metri è di 4 minuti dovrai correre queste prove in 4 minuti e 36 secondi. La cosa importante di questo allenamento come anche di tanti altri allenamenti è di correre le 3 prove allo stesso ritmo e allo stesso tempo. Questo è una cosa molto molto importante. Il tuo obiettivo deve essere quindi di correre tutte e tre le prove allo stesso tempo. Meglio nel caso se corri tutte e tre le prove sempre più velocemente. Una cosa molto positiva di questo allenamento è che andiamo a correre in allenamento a ritmi diciamo elevati la stessa distanza che andiamo a correre in gara. In questo modo riusciamo a prendere confidenza con la distanza e ci sentiremo sicuramente più preparati ad affrontare i 1000 metri una volta che saremo in gara. La cosa importantissima da evitare è sicuramente di iniziare con un 1000 forte facendo secondo 1000 più lento e arrivando al terzo 1000 praticamente strisciando. In questo modo riusciremo solamente a farci del male e a rovinare praticamente l'allenamento. Io ti consiglio di ripetere questo allenamento almeno 3 volte meglio 5 volte con cadenza settimanale sino a 10 giorni prima della tua gara o del tuo test. Io mi auguro che questo allenamento ti serva per migliorare sui 1000 metri magari passare il tuo test appunto magari il test delle forze dell'ordine. Io con questo ti saluto ti ringrazio ti abbraccio mi raccomando sempre a canna.